Quest'anno è l'evento Memorial Albano in veste cuore giallo-blu, abbiamo invitato cinque pari che conosco abbastanza e abbiamo il piacere di arricchire l'evento con la presenza del Monaco, una squadra importante, già partecipato con noi a Memorial nel 2010 con PMS, è una bella iniziativa, un primo torneo internazionale se vogliamo per la città di Torino, un bel evento, sta venendo bene, siamo contenti, ringraziamo Crocetta per l'ospitalità e ringraziamo ovviamente la famiglia Albano a cui questo dodicesimo Memorial è intitolato nel ricordo di Giovanni. Siamo ritornati qui in Italia con piacere a fare questo trofeo. Un amichevole importante, un vero e proprio trofeo per ricordare questa persona e quest'anno ancora di più con una squadra internazionale che può sicuramente aumentare il livello della partita e del trofeo stesso. Lo viviamo comunque come una festa con degli amici. Amo questo sport come lo amava il nostro bambino Giovanni Romano. Lavorare dobbiamo lavorare molto, però durante questi 15 giorni il dato più importante è stato proprio l'applicazione da parte dei ragazzi. La volontà di giocare, la volontà di fare un qualcosa non solo per se stessi ma per la squadra.